Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video dedicato all'Energy Drink. Direttamente dalla Spagna ragazzi mi sono arrivate tre lattine di Monster davvero strepitose, sono classiche però davvero sarà un piacere recensirle e fare confronti ad altre lattine che abbiamo, direttamente da Nutritienda, il sito spagnolo che di fatto fornisce lattine provenienti dal suo stesso paese. Ok, ecco qua il nostro pacco, è giunto il momento di aprirlo. Ok, tante 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 sorprese, c'è una piccola cosa che non mi aspettavo, tant'è che me la terrò alla fine. Allora partiamo dalle Monster, la Pacific Punch, questa lattina qui che sicuramente conoscerete, è uscita anche in Italia. Se la ruotiamo possiamo notare una peculiarità che la rende unica, ma poi la confronteremo giustamente con la nostra connazionale. Ma non finisce qui, mi è arrivata una Mangoloco, ovviamente anche questa c'è in Italia, ma se la ruotiamo c'è qualcosa di strano, quindi chi è incallito e conosce bene le lattine vendute in Italia, sa di cosa sto parlando. Inoltre la linguetta nera, per qualche strana ragione, quindi sì, ci sta. Ma la lattina più particolare è questa qui. Io pensavo fosse una lattina di Monster classica spagnola, ma in realtà se la giriamo si tratta di una promozionale di Halo. Questo non me lo aspettavo minimamente, anche perché io acquistai la lattina solo per la sua lingua, per la sua provenienza. Invece è una promo che finirà dritta dritta in collezione, tra l'altro ovviamente con la linguetta nera. Quindi sì, questa verrà riprovata e sarà la lattina diciamo spagnola. Quindi che dire ragazzi, tante nuove lattine per noi, direttamente dalla Spagna, quindi mi raccomando, supporto perché ragazzi faremo dei confronti ineguagliabili. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!